Grazie a cazzo Ma quello è l'attore? Si, non mi sa come vada Poi fuori quella ferrarina che avevo fino a qui sotto Ma pure la gassina l'ultima Poi entravi la ferraria E' blanda la cazzo Stanno girando dall'esterno e poi entro Vedi? Vedi questo qua sono scene Venga avanti Sono entrati Sì Sì No hai niente a che ver Poi 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 un attore della peli posso sbagliare su un attore? passare nella peli? si, per la tempra, all'aliva passare passare nella peli stiamo girando allora l'azione si svolge così là c'è uno che e io e poi comunque avete visto ragazzi ce l'ho fatta anche a vedere Mich Pamela quattro ore di viaggio ma mi sa che ne vale la pena venderò caro questo film vederò caro questo film io sono spagnola e mi nome è Carolina Pamela, Pamela è un'altra è un'altra è un'altra ma è un'altra è un'altra Grazie a tutti. 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 Super caro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. Grazie a tutti. Buongiorno. Grazie a tutti. Stanno... Buongiorno. 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 Buongiorno.